...quieno ti va? ...la salente, la salente... ...ah, sì, perché la casetta... ...la cassa qui... ...via Livorno numero 9... ...viene la scala... ...capa! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi riservo naturalmente. In questo momento non vi rispondo per cortesia. Già vi ha detto il comandante dei carabinieri che non è il caso di andare oltre. Grazie. La decisione aspetta al magistrato e sicuramente verranno fatti altri accertamenti. Quindi non si tiene? No. Grazie. 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 Grazie.